Il commissario Montalbano ha noto, siamo andati qualche giorno dietro la troupe che ha effettuato le riprese a noto, riprese che vedrete poi confezionate il prossimo autunno, mandate in onda da Rai 1. Tre giorni dietro Montalbano, dietro gli attori che arricchiscono queste storie popolari affermate in tutta Italia. Innanzitutto noi vogliamo ringraziare chi ci ha permesso e ci ha consentito di riprendere queste scene. Ringraziamo quindi il produttore della Palomar degli esposti, ringraziamo anche Alberto Sironi che è il regista. Un particolare ringraziamento al sindaco di noto Corrado Bonfanti e al responsabile della Commission Film, Corrado Di Lorenzo. Vedrete ora delle immagini, qualcuno dirà buona la prima, siamo rimasti lì per qualche ora perché dopo la prima c'è stata una seconda, una terza, una quarta. Le scene che vedrete riprendono noto, noto che per qualche giorno seppur nell'immaginario collettivo diventerà vigata ma sarà anche Montelusa, Palazzo Ducezio per qualche giorno è diventata sede della Procura della Repubblica. Scene che abbiamo tra virgolette rubato ma sempre con la complicità della produzione del commissario Montalbano. A voi le immagini? Tutto quello che ti incuriosisce. Tutto quello che ti incuriosisce. Tutto quello che ti incuriosisce. C'ho quella nuova io. Vabbè per ora spegno, spegno. Ce l'ho quella. Stiamo aspettando. Bello, che va per ora. Bello, che cosa è che ti incuriosisce? Due sole, io l'ho fatto le persone che ho rilasciato, ho pensato che ho inserito in un'orme o vede più di 10,5 per ore, non c'è proprio di un amico. Grazie a tutti. Buon appetito! Grazie a tutti. 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 Partito. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.